Un appuntamento importante all'interno della rassegna di Pordenone Legge, arrivata quest'anno alla quindicesima edizione, sarà l'incontro organizzato con Scienze Arte Ambiente con John Barrow, noto docente di astrofisica, attualmente insegnante di scienze e matematiche presso l'Università di Cambridge. Nelle parole di Chiara Sartori, responsabile del progetto Scienze Arte Ambiente, scopriamo il pensiero di John Barrow. È uno dei più famosi cosmologi che abbiamo viventi in Italia, peraltro è giovane, dell'Università di Cambridge e racconterà una stranissima idea che è quella dell'infinito che l'uomo ha necessità di capire e di comprendere. Sembra quasi una contraddizione poter comprendere l'infinito, ma l'infinito è nella mente dell'umanità da quando ha cominciato a pensare, da quando ha cominciato a costruire cultura. Scienze Arte Ambiente nel prossimo ottobre, dal 15 al 19, parleremo delle logiche del desiderio e quindi ecco che anticipiamo il desiderio della comprensione di un concetto così vario e complicato come l'infinito. Infinito che si espande e se si espande il nostro universo come può essere l'infinito? E l'infinito ha dei limiti? Ci sono più di un infinito? Beh, queste curiosità sicuramente nella lezione di John Barrow verranno esaudite.